Vuoi sederti? Hai rotto il cazzo finora che dovevamo cominciare, siamo in rec Ciao Lupo, ciao Fred, ciao Cri, ciao Anna, ciao Matte, ciao Fede, eccoci tornati di nuovo qui oggi per parlare di piacere Allora non diciamo niente cosa accadrà e cominciamo con un gioco Noi non diciamo niente, basta andiamo via Qui abbiamo raccolto dei nostri guilty pleasure Guilty pleasure ovvero qualcosa che ti piace e della quale ti vergogni Quindi approfondiremo tutta questa conversazione dopo ma vorremmo pescarne due Così per incominciare ne abbiamo scritti un sacco qua e noi non sappiamo quali sono quelli degli altri Quindi ora li peschiamo e proviamo ad accusarci a vicenda di avere questi guilty pleasure Qui intanto c'è un trattato, mi hanno scritto varie riflessioni Ascoltare e cantare, musica adolescenziale e poi c'è anche un esempio, per esempio High School Musical Ma dobbiamo indovinare come funziona, dobbiamo indovinare chi... Sì e se è il tuo devi cercare di... Ma la verità è che io dico Cri È Cristina, sì 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 Io dico Anna Era di Cri, non era di Cri Era di Cri Non è che cambia adesso che però hai capito Comunque io vorrei anche che Cri ci cantasse a Scognosico Peso raga a guardare video di estrazione di punti neri Porco gioco Questo secondo me è Anna Io dico se favi scarti perché quando è così convinta che getta merda su qualcun altro è lei sicuramente Non ero io No, è Cristina di nuovo È Cri È una cesta di cose di Cri Vabbè Fred, non la leggo neanche C'è scritto Fred Giocare a Magic the Gathering Chiaramente Fred Fred e gli diamo anche un punto per questo Scala la classifica A proposito di classifica Da oggi abbiamo in studio anche la classifica analogica con tutti i punteggi dei giochi Delle passate puntate sommati con bonus e malus eccetera eccetera Adesso la faccio pure vedere qui se puoi allungarmi perché io non ci arrivo Il classificone che aggiorneremo poi di volta in volta e lasceremo qua per i postri anche Questo è interessante, guardare Ciao Darwin Fred Dico anch'io Fred Io dico lupo Solo per infamarlo live Ma scusate ma questo gioco qua non vale quando ci sono io Cioè se si capisce fa un secondo che sono io Eh il punto era proprio che non dovevi farti scoprire Ciao Darwin, sei tu Fred Però dico lupo Gente cattiva su Twitter Io dico lupo Io dico lupo Anna Stavolta io dico lupo Quindi cosa sono le vostre risposte definitive? Io dico lupo Io dico lupo Anna Nooo Mi piacciono quelli che aumentano in modo cattivo tipo X Factor senza un motivo Cioè quelli che tipo Ti faccio persone furioni su Instagram Ecco tipo Persone furioni Esatto A chi tipo ieri c'era il tennis in tv e guardavo quelli che se la prendevano quei commentatori Rai Non so perché ma tipo loro dicono Ah questi della Rai che parlano di questo non sa rispondere mai da fondo campo Cioè la roba è mega Scassata E voi parlate male di quelli della Rai Cioè su Twitter c'è una roba che Entriamo nel vivo della puntata E chiacchieriamo di piacere Ci sono forme diverse di piacere La prima cosa che mi fa molto ridere di questa puntata è che quando abbiamo incominciato a parlare di piacere Abbiamo nominato i guilty pleasures che ripetiamo sono quelle cose che ti piacciono di cui ti vergogni Che sono comunemente associate alle persone meno intelligenti più stupide Quindi si parla di trash comunque delle cose che ci vergogniamo di apprezzare E Fred che è una persona molto lontana dal concetto di vergogna che tutti noi conosciamo Non riesce a capire qual è il significato di guilty pleasure Tutt'ora non mi è chiarissimo Ma tra l'altro io ho una definizione diversa dalla tua Questo è un altro fatto interessante Cioè io non la vedo tanto così ma la vedo più in termini di scelti di rappresentazione di se stessi Dipendono tantissimo dal contesto Per esempio se io sono, non lo so, con le mie amiche storiche del liceo Ascoltare c***o non è un guilty pleasure Perché è un artista che loro ascoltano e apprezzano Se vado dai miei amici del centro sociale che ascoltano solo la musica ambient sperimentale Tecno interdimensionale Ovviamente c***o diventa guilty pleasure all'interno di quel contesto Perché è una cosa, come dice Lupo, lontana da come tu ti rappresenti E ovviamente all'interno di quel contesto le persone si rappresentano in un certo modo E quindi è una cosa che ti piace di cui un po' ti vergogni Cioè sono confuso Nel senso che questa cosa qua di identificarsi dentro un gruppo di persone Cioè per dire, cioè è vero che io sto in tanti gruppi diversi Dai centri sociali a pubblica amministrazione per dire eccetera eccetera Però non è che in nessun contesto io mi vergogno di dire che gioco per dire a Magic the Gathering Cioè Fred mi sembra una persona molto fedele a se stessa Anche perché probabilmente essendo più grande di me Cioè non conto l'età Però è una persona più consapevole di chi è Per dirti ricordo una volta è venuto a prendere un caffè Non so perché ci hanno beccato in cadorna in un bar di merda E' arrivato in questo bar che appunto era un po' fighietto E ho detto che posto di merda Ma che cazzo sono? Cioè mentre comunque tu magari l'avresti pensato ma non avresti sordito così Sì 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 no ma secondo me cioè è un po' una questione di Cioè sapere nel profondo chi sei Cioè in realtà ammiro molto la sua mancanza di vergogna Ed è questo il motivo per cui probabilmente non puoi capire il significato di guilty pleasure Perché chissà vedremo Cioè sei anche una persona che non è che tipo se passa una giornata intera a non fare niente sul divano E a guardare una serie tv la ritiene una cosa di cui sentirsi in colpa Anzi sei una persona che dà molta importanza alla riappropriazione del tempo del non fare niente eccetera eccetera E quindi chiaramente è molto difficile che tu ti senta in colpa guilty perché stai provando del piacere Mentre comunque socialmente il piacere è una cosa che ci fa sentire un sacco in colpa Ah questo è interessante Cioè essendo che abbiamo un indottrinamento cattolico anche Comunque il piacere è legato al senso di colpa, allo sforzo Non devi provarne troppo Tra l'altro ho trovato un articolo del New York Times Dice che ovviamente il troppo sdroppia sempre quindi in una misura contenuta Però abbandonarsi ai guilty pleasure e anche farlo senza sentirsi in colpa Cioè liberandosi dalla vergogna che si prova nel fruire di certi contenuti eccetera eccetera Fa bene perché il momento in cui noi guardiamo qualche cosa che non impegna il nostro cervello Dicendogli che c'è un problema da risolvere Il nostro cervello si rilassa e probabilmente quando ritorneremo su quel problema dopo Saremo più lucidi per affrontarlo Allora giusto per fare l'avvocato del diavolo Forse però in realtà il cervello non si sta veramente rilassando Si è sottoposto delle immagini Rilassando credo rispetto al risolvere sempre dei problemi Capire sempre delle cose Cioè quando tu fruisci di un contenuto che è trash, guilty pleasure, dal grande fratello non lo so Comunque non stai cercando di risolvere dei problemi Oggi abbiamo due diversi momenti carte Le solite che conoscerete già tutti che sono le carte megapese di venti Si parla d'altro nel mondo Sorpresa Non lo diciamo, lo diciamo poi Quindi è arrivato il momento carte megapese Siamo carichi, siamo caldi? Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo? Ma no, che rapidi fargi Puoi rifarla tu a me questa domanda per favore Anch'io è una bella risposta Hai mai ricevuto un'educazione al piacere? Se sì, in che modo? Ma l'ho fatta io a te, devi rispondere Ma non mi hai detto di farmi la tua Ma sì, ma mi hai detto che avevi una bella risposta Rispondiamo entrambi Io ho tanti ricordi felici della mia infanzia Che sono legati alle eccezioni in termini del piacere Quindi ho una mamma che mi ha sempre viziato tantissimo Mio papà non mi ha mai comprato niente Quindi la volta che lui mi comprava una cosa Era una roba pazzesca Cioè comunque vada Mi ricordo che una volta abbiamo visto due film di fila al cinema Che era un eccesso Una forma di piacere appunto eccessivo Che mi emozionava tantissimo Quindi per esempio Con la mia ragazza ho visto a un certo punto Una sera guardavo una serie tv E gli ho chiesto tipo Possiamo vederne un'altra E mi ha detto sì E io ero super emozionato da sta cosa Perché non pensavo di aver diritto a vedere di più di quella roba lì Quindi appunto la mia diciamo di piacere è stata abbastanza Mi viene a dire repressiva Ma più che altro era sempre con un limite Cioè invece ogni tanto avere un piacere anche sregolato Spacca Rispetto alla domanda Io risponderei che Per tantissimo tempo nella mia vita Io mi sono sessualmente vergognata nel provare piacere C'è ancora una cosa che non mi mette completamente a mio agio Lasciare che l'altra persona si dedichi completamente a me Mentre io non sto facendo niente Poi ovviamente ci sto lavorando Però comunque Cioè mi sono vergognata tantissimo Per tantissimo tempo Cioè il primo orgasmo che ho avuto nella mia vita Io non sapevo Che io avrei potuto avere dei Cioè non sapevo che cosa fosse Che cosa stesse succedendo al mio corpo Mi è successo per caso Non stavo ricercando quella cosa È stato assurdo E mi sono sentita Estremamente colpevole di provare quel piacere Non ho parlato con nessuno per un sacco di tempo E anche l'autoerotismo E tutta la sfera di Sessuale personale Comunque l'ho sempre vissuta con estrema vergogna Fino a un certo punto della mia vita Devo dirti che anche a me è capitato in realtà la prima volta di provare il piacere sessuale Senza capire cosa fosse Cioè addirittura pensavo questo Interessante Pensavo che a un certo punto lo sperma finisse Quindi tipo Scassato Pensavo che tipo andasse moderata sta situa Perché poi chissà Quindi pensa a te che educazione al piacere che c'è stata in questo caso Assurdo Assurdo C'è tutto questo mondo che si racconta delle donne che fingono gli orgasmi per far piacere gli uomini eccetera Io tante volte ho finto di non averli avuti Cioè non so come dire Li ho avuti ma non l'ho detto Perché mi creava vergogna il fatto che Provassi piacere C'era come se comunque Una parte la capisco bene L'amplesso sessuale fosse comunque sempre dedicato al coito maschile E quindi non mi veniva neanche da informare l'altra persona che nel frattempo aveva avuto un orgasmo anch'io Perché era una cosa che mi faceva vergognare semplicemente Perché comunque di base nessuno si interessava che io venissi Negli uomini vedi la stessa cosa oppure li vedi tutti più o meno uguali? Cioè come No ma vai Cioè comunque gli uomini sono educati al coito Cioè sanno che devono f***are E comunque quella è la conseguenza Diciamo non normalmente Più o meno dell'orgasmo Quindi assolutamente no Cioè la maggior parte delle volte che io ho fatto sesso Comunque quando viene il tipo La cosa più o meno finisce Sempre su questa cosa qua invece io al contrario Cioè a un certo punto quando nella mia formazione umana Ho inserito anche diciamo una parte politica Io al contrario invece ho sviluppato una roba per cui Se quando faccio sesso o faccio l'amore Non viene anche l'altra persona Cioè al contrario invece io mi sento Cioè preferisco far venire prima l'altra persona e poi dopo venire io La cosa che hai appena detto è vera Cioè se io faccio sesso con un uomo e lui non viene Comunque sia Mi faccio delle pare Però mi chiedo come cazzo è possibile che Nel 90% dei miei rapporti sessuali invece All'altra persona questa cosa non interessi Io sono Cioè in realtà sono abbastanza stupito Quello che dici perché Una delle mie principali ansie È quella di non far venire il mio partner Quindi Non perché mi senta tipo figo Questa cosa qua Anzi la trovo un'insicurezza Non trovo una cosa figa Però ti dico Che è la stessa cosa che ha detto Fred Però vi dico Cioè vi chiedo Voi provate quest'ansia Ok Ma la esprimete in qualche modo Perché forse è quello il punto Perché tipo nel mio caso Cioè io non voglio Supporre che le persone con cui ho fatto sesso Che sembravano non interessate al mio piacere Non ci abbiano nemmeno pensato Erano tutte interessate secondo me Eh ok però Però erano interessate nel riflesso dell'ego Cioè nella loro prestazione Non del tuo piacere Cioè era accessorio alla loro prestazione Il tuo piacere capito Cioè secondo me questo è il tema di fondo Che è sbagliato Cioè che un conto è il piacere Perché giù Perché Perché vuoi dare piacere Un conto è il piacere Perché vuoi sentirti meglio La tua prestazione Cioè è un pochettino Ma c'è anche gente che se ne frega proprio Come abbiamo detto all'inizio Cioè nel senso Però è una occasione di ego E per me è folle la possibilità Una occasione di narcisismo Secondo me è difficile fregarsi Cioè io vorrei tantissimo tipo Fregarmene Magari delle volte venire E chi se ne frega Il mio ragazzo è venuto Stiamo insieme da un anno e mezzo Posso anche addormentarmi E invece comunque sia Mi sento subito in colpa Cioè mi sento subito Che io gli devo qualcosa Poi c'è In questo momento Della mia relazione Non così tanto Ovviamente Di nuovo Sto lavorando su questa cosa E sto con una persona Con cui c'è Mi sento che c'è un rapporto Molto pari Da questo punto di vista Però comunque Lo trovo assurdo Cioè com'è possibile? Mi sembra così No ma per me è impossibile Non per un senso di narcisismo maschile Cioè perché comunque vada Anche nel porno Cioè che non ha Che non dà nessuna enfatia Dell'orgasmo femminile Al piacere femminile Il fatto di farla godere In realtà è una questione Di tipo Cacciare un maschile Sì sì no 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 È chiaro quello che dici Quindi in realtà Quell'aspetto lì Secondo me esiste Mi stupisce il fatto Che appunto Però appunto È quella questione tossica Che è legata Alla prestazione tua Non tanto All'altra persona Cioè è solo un oggetto Che accresce Il tuo Di ego 48 minuti dopo Abbiamo risposto Solo una domanda Visto che Se no Questo video Che già sarà lunghissimo Diventerà infinito Vi leggiamo le altre domande Alle quali più o meno Abbiamo già risposto In questa lunga risposta Alla prima domanda Ve le mettiamo anche in grafica E vi chiediamo Se volete rispondere Voi nei commenti A queste domande Che pure i compiti A casa Vediamo Sempre difficili Le emozioni Le vostre emozioni Qual è la tua definizione Di guilty pleasure Pensi di averne Hai mai avvertito Senso di colpa Legato al concetto Di piacere In passato Ti è mai capitato Di aver giudicato O essere stato giudicato Per qualche tuo kink Sia sfera sessuale Sia cose non canoniche Che ti piace fare Oggi puntata Fritto misto A venti Mare e monti Passiamo da Il sesso Al sesso Nelle sue parti Più Interessanti Wow Parliamo di Kink E di fetish E lo facciamo Con questo tono Per tutta la puntata Con un tono Un po' Asmer Kink fetish E io ti rispondo Sei cringe Allora Allora Madonna Sembrava realizzata In studio Sembrava quelle montate Sui programmi Tipo friends Vabbè Cos'è un kink Cosa parliamo Allora Leggo una definizione Che mi sembra abbastanza Bella Presa da Vanity Fair Quindi non è Cioè non prendeteci Come dei Un'università americana Fermati Eh sì Se facciamo il canale a pagamento Facciamo la ricerca accademica Invece così Youtube Cioè Nel senso Prendete quello che c'è Ok Quindi cos'è Cos'è il sesso kinky Cosa si intende per kinky Il termine kinky In inglese significa Nodo Scusate ciò Nodo io In inglese il termine kinky Significa nodo Ed è inteso come un qualcosa Che rompe la linearità In realtà è un termine ombrello Che richiude molteplici atti Della sessualità Ma il suo nucleo Nelle pratiche Dei comportamenti sensuali E sessuali Non convenzionali Mi piace l'idea del nodo Perché appunto Se il sesso È visto come una cosa lineare In realtà il kinky È tutto quello Che prende delle Vie tortuose Mentre il fetish È Anche qui Fonte TBC To be confirmed Un'attrazione Per una parte del corpo Non genitale Generica Quindi è un po' diverso O cosa inanimata O cosa inanimata Quindi è un oggetto È un oggetto E non un atto Esatto So che tu Sei andato a cercare I kinky più diffusi Ho fatto della ricerca Della ricerca accademica Ho cercato Cosa siano i kinky Più frequenti nel mondo E dato che il mondo È chiaramente americano centrico Ho trovato solo quelli Degli stati federali americani Però comunque interessante Nel senso che Qua puoi vedere la mappa D'America divisa Per i versi kinky Più frequenti Stiamo parlando di America O Stati Uniti scusa Stati Uniti Ah perché non sono due cose Però ho detto Stati federali americani Quindi sotto C'è proprio una classifica Dei fetici più cercati Per ogni stato Bello Masochismo è più frequente Cioè in cinque stati Il masochismo è vincente Masochismo è Farsi del male Farsi del male A se stessi Sì Cioè ricevere del male Il sadismo è vedere Il dolore negli altri Il masochismo invece è provarlo Ok Quindi masochismo 5 Sesso di gruppo 4 stati L'hanno votato come migliore Sadismo 3 Ma ci sono anche Di più interessanti Tipo l'ascella Che pare sia una nuova tendenza Due stati hanno votato L'ascella come Io Non schifo le ascelle Cioè non è una cosa tipo Cioè capisco In cosa consiste invece Lo sports gear Ah E usare le cose sportive Cioè ma tipo Vestessi da tenesti Le spalle dei reggbisti Cioè immagino Il football americano Però appunto Se volete Non ne so niente Non mi sorprende che È interessante che Gli stati più conservatori Abbiano quelli più legati Alla sofferenza Ma non mi dire Questa la butto lì Come Ma non mi dire La butto lì Come riflessione Questi texani Che amano farsi frustare Passiamo alle carte mega hot Guarda sì Volevo Mi sembra che siamo passati in tema Vai È il tuo momento Guida Carte mega hot Allora Junpla Tipo un paio di anni fa Ha pubblicato Un interessantissimo libro Che è anche un consiglio Di questa puntata Che si chiama Club Godo Grande libro Un libro di educazione Al piacere Diciamo così Un libro molto ambizioso Perché comunque vada Voleva raccontare di tutto Per tutti E secondo me C'è riuscita C'è riuscita E adesso Recentemente È uscito Un gioco Di carte Devo ammettere una verità Non so assolutamente Come funzioni in realtà Questo gioco Perché non ho letto il regolamento Ma Ho visto che uno dei mazzi di carte Aveva tutte delle domande Mega hot Che ora noi ci faremo Pescando Ovviamente in questo mazzo di carte C'è una scintillante carta Preferisco tenermelo per me Qualora qualcuno Non avesse voglia Di condividere La risposta alla domanda Con noi altri oggi E dietro c'è Un interessante Dimmi di più Fred vuoi cominciare tu? A sorpresa Sì Cosa devo fare? Pescare Sì Pescare e leggere la domanda Io non capisco mai Come funzionano le cose Vabbè Leggerò questa domanda Ti piace il tuo sesso? Che credo si riferisca All'organo sessuale Perché poi dice La risposta per riguardare La forma L'odore Sì C'è il senso Rispondo volentieri Sono molto contento Grazie per la domanda Intanto grazie per la domanda No ma che cosa sto dicendo Sono molto contento del mio cazzo Ma poi Sono molto contento Dei miei 90 centimetri Ha una forma che mi piace Sì Ha una forma che mi piace E devo dire che ha anche C'è un pene che Spesso mi si dice Un usato sicuro Un ottimo Ma non in grandezza Lo dico perché sono qua Tutti a pensare Oh vinca è un mega pene No in bellezza In bellezza Sì sì Bello È un buon pene Quindi sono contento del mio pene Grande pene Vai lupo A te l'onore Prima gli uomini A me di 20 piace La raffinatezza Noi tocchiamo i temi Con un tatto Cioè E questa è la cosa Quei punti di borghesia Tra l'altro Noi toccavamo Leggi cose pornografiche erotiche Posso dare un'occhiata? No Non leggo cose pornografiche erotiche Una carta un po' facile Mi è toccata Quando ero ragazzina Tipo tra le medie e il liceo Leggevo le fanfiction erotiche Sui One Direction Il 90% delle volte Non ha scopo Eccitante Semplicemente perché Ero con le mie amiche Ci faceva ridere questa cosa Perché eravamo piccole Però devo dire Che non posso negare Di averlo usate anche Per scopi autoerotici E scopi Cosa ne pensi dell'idea Di avere relazioni sessuali Barra sentimentali Con più persone Interessante Vabbè non ho mai Sperimentato Diciamo Già faccio fatica A gestirne A gestirne una A gestire le pare per una Se dovessi anche Preoccuparmi di un'altra persona Non è una cosa che Che riuscirei A fare Però Hai detto una cosa Secondo me molto giusta Cioè già faccio fatica Secondo me Tipo non Nel mio caso Non è una questione di Tipo Voglio o non voglio Tipo me la sento Me la sento Ma tipo non so Se ho le energie Per gestire Tutta questa Emotività Comunque c'è il doppio layer Di questa cosa qua Una relazione Sentimentale L'altra relazione Sessuale Cioè quindi Tre Somme eccetera eccetera Questa è una cosa Che mi interesserebbe Molto di più Ma mi chiedo Di nuovo Quanto diventa difficile Separare Il sesso Dalle emotività Quando tu hai un partner Fisso e vuoi solo Scopare con altra gente Però Cioè com'è che fai a decidere Che non ti Pili Cioè comunque Faticoso Preferisce tenerselo Per sé lupo Prossima domanda Cosa ti eccita di una persona Ne ho alcune caratteriali Alcune fisiche Parto con le caratteriali Così sembro intelligente E poi ti dico il culo Vai Cioè la risposta alla fine È il culo Però Cioè mi Mi eccita molto In realtà tipo Mi viene a dire La self confidence Anche se in realtà Non è tanto Però comunque Mi piacciono le donne Carismatiche Tendenzialmente Quando dovrebbe interrompersi Un rapporto sessuale Quando vengo io No scherzo È una domanda interessante Perché secondo me Non c'è un momento Cioè dovrebbe interrompersi Quando uno L'altra persona Cioè cambia idea Anche di poco Non so come dire Mentre sono a letto E sto baciando Il mio ragazzo Se a un certo punto Mi stacco dal bacio E mi metto a fare Qualcos'altro Tutto è normale No? Non si presuppone Che tipo Dobbiamo continuare A baciarci Fino a che uno dei due Non fa il bacio Con lo schiocco Da quando ho imparato A vivere così Anche la mia vita sessuale Cioè Tanto teasing Che poi delle volte Magari non porta A nessuna parte Tutto è diventato Molto più bello Perché L'idea Che io posso Cominciare questa cosa Ma se a metà Mi rompo Posso fermarmi Mi dà molta più Di cominciarla Più volte Perché se invece Io so che appena Io ti sfioro Poi dobbiamo Per forza Concludere l'amplesso Con quello che sarà Il tuo orgasmo Perché così è Ovviamente Mi allontano Dalle situazioni In cui ci possiamo Sfiorare Nel momento in cui Non sono sicura Di avere voglia Di stare lì Mezz'ora A fare quella roba lì Quindi Secondo me Dovrebbe finire Rapporto sessuale Quando L'una o l'altra parte Sei rotto cazzo Quando sei rotto cazzo Poesia Un canale di poeti Santi e navigatori Ciao Grazie per averci guardato I consigli Che possiamo darvi oggi Sono Clap Godo Che ve l'abbiamo già dato prima Libro di Jean Pla Dedicato al piacere E anche gioco di carte E Lupo Portato qua Portato un libro Che in realtà Avete già visto Su questo canale Più attenti L'abbiamo già visto L'abbiamo regalato Ma è un libro Di Philippe Renaud E Letitia Corrine Che hanno fatto La storia del sesso Nel senso che È una lettura Molto interessante A avere sul comodino Perché si parte Proprio da Gli uomini Tipo Sapiens Che vivono La loro situa Con tutte le spiegazioni Ma che bello E si arriva fino Agli anni 70 Liberazione sessuale Stress eccetera Bello Basta Fateci sapere Come state E cosa pensano In generale Di quello che abbiamo detto Ma anche no Anche parteci anche d'altro Se volete Sì siamo rotti Scrivete quello che volete Ciao 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 Bravi Madonna Quanto cazzo Abbiamo girato Raga Bello però Va bene Io c'ho Io c'ho Una coltra Tipo Io ho una coltra Sophi 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 Sophi